Successivamente, con il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto col MIPAF del 20 gennaio 2015 e pubblicato il 30 giugno 2015, è disposta a partire dal 30 giugno 2016 la revisione obbligatoria delle macchine agricole. Questo decreto prevede la revisione delle macchine agricole ogni cinque anni rispetto alla prima immatricolazione e in base al grado di vedustà una revisione generale a partire dal 31 dicembre 2017. Però all'articolo 5 del suddetto decreto si legge che le modalità con cui eseguire la revisione sono definite con un altro decreto. Ora è passato quasi un anno e di questo decreto non vi è alcuna traccia. Quindi sollecino con questo intervento il Governo affinché emani al più presto il decreto. Tale ritardo, Presidente, preoccupa in modo particolare il mondo dei costruttori di macchine per l'agricoltura e visto che senza queste linee guida non è possibile individuare le officine in grado di effettuare i controlli sulle trattrici e le modalità e gli elementi da revisionare. Grazie. Grazie a lei. Collega Burtone, prego. Presidente, il 7 maggio a Catania è accaduta una cosa molto grave sul piano dell'ordine pubblico. Durante un'operazione di controllo del territorio dei carabinieri hanno fermato un giovane che aveva tentato di forzare un posto di blocco. Subito dopo i carabinieri sono stati accerchiati da alcuni cittadini, ingiuriati e strattonati. Tentavano indubbiamente questi cittadini di liberare e di far fuggire il giovane che aveva commesso un reato. È un episodio molto grave. Io voglio esprimere qui la mia solidarietà ai carabinieri, a quelli che sono stati impegnati nell'operazione. Però è una ferita inferta nel cuore dello Stato. Ecco perché ho presentato un'interrogazione e sollecito la risposta del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa. Perché a Catania, nella provincia di Catania, c'è il rinvigorire di alcuni gruppi malavitosi, di alcuni gruppi criminali e mafiosi. Ecco perché c'è bisogno di potenziare i presidi delle forze dell'ordine, rafforzare la presenza dei carabinieri e della polizia. Questo episodio è avvenuto annesima in corso indipendenza. È questo un quartiere ad alta intensità di presenza di case popolari. Ci sono tanti cittadini laboriosi, però ci sono gruppi criminali che lì vogliono insediare delle zone franche, dove far fiorire lo spaccio della droga e le altre attività criminali. Ecco perché chiedo ai due ministri di venire presto a rispondere perché si possano approntare una serie di misure per rafforzare i presidi di difesa e di sicurezza a Catania e nella provincia. La ringrazio. Grazie a lei. Collega Moscat, prego. Sì, Presidente. Intervengo per condividere con quest'Aula fatti, circostanze e sensazioni legate ad una vicenda triste e squallida accaduta giornal dietro a Favare, in provincia dell'Agrigento. Vede, Presidente, la sera dell'11 maggio il professore Airò, recandosi a casa, ha trovato sull'uscio una busta. Dentro questa busta ha tre proiettili e un biglietto con su scritto «Tu è mossuto, rivolgetevi alle persone giuste». Airò e mossuto sono prima di tutto...